Il risultato poteva essere molto più rotondo. Abbiamo sprecato un po' di situazioni, ma questa oramai è una costante di tutto l'anno. Godiamoci anche quello di buono che abbiamo fatto e più che altro che hanno fatto le ragazze. A volte le situazioni potrebbero essere le partite più agevolate, però alla fin fine la squadra ha fatto anche oggi un'ottima prestazione, con un caldo allucinante. Con una squadra che comunque si ha dato fastidio a tantissime squadre in questa stagione e che comunque si ha fatto dei risultati importanti anche con squadre di alta classifica. Quindi aver giocato una partita di questa intensità, di questo valore tecnico, vincere 3-0 probabilmente poteva essere anche più largo, credo che sia un grande merito delle ragazze e una grande soddisfazione. Livrea era venuta qua cercando di fare risultato e si è visto da quello che ha provato a fare durante la partita. È normale che quando ci sono queste parti qui diventa difficoltoso a volte, cercare di mantenere quella concentrazione e quell'attenzione. Però le ragazze anche oggi volevano vincere, l'hanno dimostrato sul campo, l'hanno dimostrato con l'atteggiamento, l'hanno dimostrato con la concentrazione e con quella fuga agonistica che poi serve per vincere le partite. Perché come dico sempre, poi al di là di tutto c'è la parte tattica, la parte tecnica, ma se manca quella parte di cuore, quella parte di emozioni che si portano dentro il campo il calcio si riduce veramente a poco. Oggi ho cercato di far giocare qualcuno che ha giocato un po' meno, anche perché gli ha dato anche un po' di minutaggio, perché in una stagione allenarsi solamente e non giocare diventa anche difficile che trovi nella condizione. È vero che poi bisogna andare in campo, ma se si gioca veramente poco diventa anche difficoltoso poi trovare durante la partita quelle situazioni da calcio che vivono chi ha giocato per 30 partite, perché il campo quando giochi sempre ti dà una serenità, una tranquillità che chi gioca poco naturalmente non riesce ad averla. Per questo cercheremo il più possibile di dare spazio anche a chi ha giocato meno, cercando di mantenere un equilibrio di squadra, ma per far sì che tutte possano esprimersi al meglio. Per il prossimo campionato avete già studiato qualcosa insieme a lei come mister, insieme al presidente? Ma io dico, intanto finiamo questo campionato, poi vedremo quello che verrà fuori. Sicuramente la Serie B è un altro campionato, è un campionato difficilissimo, dove ci sono delle squadre attrezzate. Il presidente è una persona che purtroppo, io dico purtroppo, vuole vincere nella sua vita, è partito con l'Arezzo maschile e diciamo che è arrivato a un passo da un traguardo storico che comunque sia da quasi un fallimento, l'ha portata a una semifinale di Serie B e quindi lui è abituato a vincere e vuole vincere. Poi è normale che vincere ne vince sempre solo una e anche quest'anno ne vinceva solo una e oggi è contento, penso, è contento di questo percorso che è stato fatto ma di quello che è stato creato intorno a questo percorso e quando poi una persona ci mette, oltre che la passione, ci mette i soldi, ci mette tanto altro, è normale che le aspettative sono alte. Sta a noi poi cercare di far sì, di togliergli i pensieri e di farlo solo venire allo stadio a divertirsi e a gioire. A volte non è facile, però quello che possiamo fare è mettercela tutta. Grazie.